Buonasera a tutti e bentrovati. Buonasera a tutti e amici telespettatori come ogni lunedì con il Rino Ceronte, la nostra trasmissione ormai di successo da due anni su Sud. Questa sera vedete già il titolo, l'ultimo presidente, parleremo, intervisteremo il presidente della provincia di Reggio Calabria, presidente uscente Giuseppe Raffa, buonasera e bentrovato. Buonasera a voi. Questa delibera della provincia di Reggio Calabria, marketing territoriale dell'anno 2015, dove venivano assegnati a Sud 4.500 Euro per produrre alcuni servizi documentari per raccontare il territorio della provincia di Reggio Calabria. Questo è servito per attaccarci, Sud lo sapete è trasparente, per questo vi vogliamo rendere conto anche di questo. Non abbiamo l'obbligo di mettere sul nostro sito l'albo pretorio online, ma lo diciamo senza alcun timore perché non siamo sul libro paga di nessuno. Facciamo libera informazione come abbiamo sempre fatto, non abbiamo padroni, non abbiamo catene, non abbiamo bavagli. Quindi ficcatevelo bene in testa, era doveroso dire e dire ai miei telespettatori che mi seguono ogni lunedì con grande affetto e con grande credibilità che si è giudicato questo programma, possiamo dire che non siamo al libro paga di nessuno, questa è la delibera che ci accusano di dire che siamo al libro paga della provincia, 4.500 Euro votata da tutto il Consiglio provinciale, compreso magari da chi ci attacca, per fare un lavoro per conto della provincia. Chi lavora va pagato, soldi che ancora non abbiamo preso, quindi questo lo diciamo, c'è gente, ci siamo ragazzi che lavoriamo, ci siamo messi tutti insieme in questa avventura da due anni e quindi con grandi, con grandissimi sacrifici. Ci sforziamo di farlo per tenervi informati, una voce fuori dal coro come direbbe qualcuno. Quindi banda alle ciance, non sarà un'intervista presidente da amici, anche se lo siamo, lo diciamo come siamo amici con tutti i politici che sono venuti in questo studio, con gli altri sindaci del territorio che hanno pagato il lavoro ben fatto da Sud che è servito per promuovere il loro territorio, diciamolo, comuni di sinistra e di destra. Chiusa parentesi, l'ultimo presidente, io partirei con un servizio che è molto simpatico, non si offenda presidente, vediamo. Grande spirito e creatore della vita, un guerriero va a te veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. Da lui benvenuto e lascia lui prendere posto in gran consiglio di mio popolo. Di lui di essere paziente e da a me una rapida morte, perché loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingach Cook, l'ultimo dei mohicani. Altro che Chingach Cook, l'ultimo dei presidenti della provincia di Reggio Calabria, è Giuseppe Raffa, che si ostina, secondo i suoi detrattori, a non mollare la poltrona. Deve fare spazio, dicono, alla città metropolitana, a Giuseppe Falcomatà, che non vede l'ora di prendere posto nel nuovo palazzo. La provincia, insieme ai suoi amministratori eletti dal popolo, non c'è più, ma resta il carrozzone. Gli uomini, i mezzi, le sedi, gli uffici, le attrezzature, anche lo sperpero di denaro pubblico. Insomma, resta tutto, tranne Raffa, l'ultimo dei presidenti che, per paura di essere dimenticato, ha addirittura posto una stele all'interno del grande palazzo. I cittadini non saranno più chiamati alle urne per eleggere i suoi rappresentanti. I consiglieri provinciali sono stati sostituiti da quelli metropolitani, che, al momento, però, risultano non pervenuti. La città metropolitana è ferma al punto di partenza, ma è tutta colpa di Raffa? Che ne sarà dell'amabile Florida provincia reggina? Solo il tempo ce lo potrà dire. Allora, è tutta colpa di Raffa, abbiamo visto in questo servizio, paragonato all'ultimo dei miei cani, sembrano le parole adatte, aspettano che Raffa se ne vada per prendere il posto, ma non di Presidente della provincia, perché il posto è già assegnato, c'è stata la legge Monti che l'ha assegnato di diritto, potrebbe dire, del Rio, scusate, lo ha assegnato direttamente a Giuseppe Falcomatà. Ora voglio dire, Presidente Raffa, lei perché non sta mollando questa poltrona? Molti la accusano, dicono che la città metropolitana non produce perché Raffa non se ne va. Ma intanto, ecco, la del Rio purtroppo è una legge assurda che noi abbiamo contestato già in tempi non sospetti, perché ha prefigurato un percorso che è quello che si sta realizzando, di una confusione istituzionale che in qualche modo vedo già sovrapponibile a quella che sarà la riforma costituzionale, non so se posso dirlo. No, siamo in parcondicio, non se per due pari di no, se no con la CGL si è esposto. No, noi possiamo fare un dibattito su questo, perché lui per una cosa, io per l'altra. Vabbè, però non possiamo fare il no pure, siamo in parcondicio. No, però ecco, è tra le poche cose in cui siamo d'accordo su questo. Però ecco, questo aspetto lo tralasciamo magari in un'altra trasmissione. Naturalmente mi guarderei bene da voler intracciare qualsiasi percorso, però ecco, il dovere istituzionale di chi amministra la cosa pubblica e chi rappresenta interessi diffusi, e questo è un motivo anche di stima per Sonino Costantino, che rappresenta un'organizzazione sindacale che tutela i lavoratori, ci divideremo su tanto, ma sulla stima, sulla persona e su chi ha un impegno nel dover portare avanti un proprio messaggio, una propria missione, perché di questo si tratta, dico massima stima e massima considerazione, la stessa che ho verso il sindaco di Reggio Calabria, perché è il sindaco della mia città, è stato un sindaco votato dal popolo e proprio per questo ecco, tanto di cappello. I problemi nascono quando il sindaco votato dal popolo pensa di dover occupare una posizione solo perché la stessa legge del Rio glielo consente e se la stessa legge del Rio glielo consente, la stessa legge del Rio mi ha consentito, a meno che io non sia considerato un abusivo, un pazzo scellerato, che adotta atti e che amministra con tante difficoltà questa fase transitoria e mi consente di rimanere 240 giorni dopo la scadenza degli organi provinciali. Stiamo rispettando la legge, è chiaro che purtroppo anche non piacere, però la stessa legge non può piacere a metà fin quando mi conviene e l'altra metà, dico faccio finta che non esista. Poi vorrei riagganciarmi anche al film che voi avete fatto, che avete richiamato L'ultimo dei Moicani. Sarebbe molto più interessante fare il film Re Leone, poi vi spiego perché. Va bene, ok, d'accordo. Nino, tu non sei tanto d'accordo sulla questione dei 240 giorni dopo che la legge consente di stare lì in provincia? Per te dovevano fare già le valigie tempo fa? No, io sono d'accordo con il fatto che la legge consente al Presidente Raffa di rimanere fino al 2 febbraio. Per la transizione. Sì, questo mi sembra scontato, questo mi sembra che sta dentro la legge. Però è di intralcio secondo te, parliamoci chiaro. Questo è venuto per gran parte, se non vado errato, dei Presidenti della provincia di altre città metropolitane. Sì, però non riesco a capire perché loro non l'avevano pensato questo fatto. Ti ricordi quando dicevano abbiamo i pareri del Lanci, i pareri del Lupi, i pareri, tutte queste cose? Per una parte no, però il giudizio che do negativo su questa legge, un altro, non lo do negativo sui 240 giorni, che è previsto, diciamo, secondo me la potevano fare meglio, è il fatto che il Presidente, il Sindaco metropolitano, è eletto dai consiglieri comunali in proporzione con un regolamento che c'è. Quindi è un'elezione di secondo livello, non è un'espressione direttamente diretta del popolo. Quindi il Sindaco metropolitano è un Sindaco metropolitano a metà votato dal popolo, cioè dalla città di Reggio Calabria, e l'altra metà è votato dai consiglieri comunali. Ecco, questo è il limite di una legge che è fatto il paio, senza esprimere un giudizio, con questa riforma costituzionale che ci propina il governo Renzi, beh, lì si pone un problema, diciamo, molto serio sulla gestione delle istituzioni del prossimo futuro. In più sei il contrario favorevole all'abolizione delle province. Ma le province si possono abolire. Io sarei per una riforma complessiva dello Stato che non abbia quelle caratteristiche che fino ad oggi ci hanno consegnato, in parte il vecchio governo, in parte questo governo Renzi. Allora, io voglio partire però da una cosa, perché c'è lì sul divanetto con il Presidente Raffa la fascia blu della provincia di Reggio Calabria, no? Il Presidente della provincia. Ecco, che è un simbolo particolare, questa fascia cesserà di vivere, di esistere, no? Nella provincia di Reggio Calabria. Sì, scomparirà, insomma, questa fascia morirà con il nostro mandato, e anche questo è un simbolo di una politica che vive molto di simbolismi e poi non punta ai contenuti, perché la verità è che un sindaco che sarà sindaco della città meropolitana senza la legittimazione popolare, ve lo dice chi ha fatto il Presidente girando tutti i 97 comuni della provincia e in tutte le sue pieghe lo percorso, non avrà secondo me la forza nella legittimazione forte da imporsi, affinché questo territorio che ha bisogno veramente di essere amministrati, io non so, per quello che abbiamo potuto noi abbiamo dato l'anima per cercare di amministrarlo nel migliore dei modi e abbiamo anche smentito una voce che quando noi abbiamo a suo tempo vinto le elezioni dice sarà un Presidente di Reggio e l'abbiamo dimostrato che è tutto l'incontrario, cosa che sta succedendo invece ora, perché anche la legittimazione politica di questa legge del Rio che ha dato ai consiglieri comunali di eleggersi fra di loro, quindi un'elezione indiretta in cui il popolo, se tu chiedi ai cittadini che è una cosa che dovremmo fare molto più spesso nell'ascoltare la voce dei cittadini non sanno neanche cosa è questa città metropolitana, qualcuno dice non lo sanno neanche loro considerato per una questione, perché questi consiglieri metropolitani dicono sempre, noi siamo consiglieri metropolitani, siamo consiglieri metropolitani però non si vedono da nessuna parte, non stanno operando ancora per la città metropolitana e dicono perché non stiamo operando, è colpa mia perché c'è Raffa, ma è così Nino secondo me, velocemente che siamo in chiusura in parte è così, ma io suggerirei al Presidente Raffa di togliere gli alibi se questi ci sono e quindi di rimettersi in modo tale che questo non sia più possibile che nelle prossime settimane appunto si continui con questa litania, in parte però è vero che fin quando rimane il Presidente Raffa nelle sue funzioni è chiaro che la città metropolitana non può devolare Sì, ma chi toglie a un consigliere eletto, peraltro con un grosso punto interrogativo che oggi è questo invio di questa elezione alla consulta perché sono emersi dei motivi di incostituzionalità, chi toglie a un consigliere metropolitano che è stato eletto, insomma come è stato eletto, a interessarsi dei problemi del territorio Nessuno, però il punto tu convieni con me è che fin quando c'è la figura del Presidente della provincia, lì in Piazza Italia, di fronte al Palazzo del Comune, questo pone un problema, diciamo, la gestione concreta della distruzione del territorio è che al posto mio non ci sarebbe il consiglio metropolitano, ci sarebbe Falcomadà se è indicato dal Governo, cosa possibile, visto che ormai fanno quello che vogliono indicato come commissario, perché il consiglio metropolitano nella sua efficienza cioè il passaggio formale delle consenze e anche delle funzioni al consiglio metropolitano avverrà per come la legge lo stabilisce se io oggi dovesse dimettermi non ci sarebbe né i 13 consiglieri né Falcomadà ci potrebbe essere Falcomadà nella qualità di commissario però abbiamo, lui è l'ultimo dei muoi cari, ma anche l'ultimo Presidente della provincia di città metropolitana perché le altre le abbiamo completate l'anno precedente ci sono esempi in Italia che vanno nella direzione apposta a quella che dice il Presidente Raffa cioè nel senso che il consiglio metropolitano per effetto di quelle determinazioni che nella legge ci sono ha preso, diciamo, possesso immediatamente e cosa che non possono fare perché oggi la legge dice che la città metropolitana si insedia 240 giorni dopo la conclusione devono modificare la legge, ma avrebbero avuto la forza di poterlo fare appunto, ma se il Presidente della provincia si dimette il sindaco metropolitano può assumere le funzioni di commissario e ai consiglieri metropolitani che fanno ma intanto incomincia a lavorare senza aspettare ma può cominciare, già è iniziato quando non era neanche legittimato cioè quando sei mesi fa, otto mesi fa, nove mesi fa ha firmato il patto per la città di Reggio nella qualità di sindaco metropolitano quando ancora era solo sindaco di Reggio ma tu sai benissimo quella firma del patto ma sono un patto simbolico eh sì, tutto simbolico i contenuti dove sono? a proposito non voglio difendere il sindaco no, non devi difendere, anzi, devi difendere ma lo devo difendere pure io no, io non voglio difenderlo perché si difende da solo, diciamo io dico un problema molto semplice dico, dobbiamo metterci nelle condizioni di dare alle istituzioni perché quelle sono ormai il processo anche criticandole, perché anche io ne critico il processo di riforma dello Stato così come è stato, diciamo, devoluto in questa fase e allora io penso che comunque noi dobbiamo essere nelle condizioni di poter levare ogni alibi, no, di mal governo e di stasi di questa fase amministrativa dicendo che il Presidente della provincia non si vuole dimettere siccome il 2 febbraio comunque finisci esatto allora io direi, due mesi, finisci questa ma di alibi non ce n'è bisogno perché di disamministrazione la stiamo vedendo sotto gli occhi di tutti è la mia preoccupazione questa invece il Presidente non si vuole dimettere vuole arrivare al 2017 no, fin quando la legge me lo consente poi insomma se io sono da entrarci a qualcosa no, è nelle tue prerogative no, vabbè, perché anche sta facendo comunque qualcosa di positivo in questi ultimi tempi non ti sbilanciare troppo se no dici che sei nel mio libro io non ho né libri e né pago quindi non ti posso iscrivere in nessun libro allora, guarda Presidente ho letto un tuo comunicato insomma sulla questione del Severi di Gioia Tauro per dire dove riacquisterete i computer che hanno rubato io me lo auguro è una piccola cosa che però la provincia sta facendo sì, ma abbiamo fatto tante altre cose tante altre cose, sì ora proprio li vedremo quelle che avete fatto e quelle che non avete fatto dopo la pubblicità e che faremo? ed eccoci ancora insieme con il Rinoceronte la provincia, quello che ha fatto che ha prodotto in questi anni e quello che non ha prodotto che ha prodotto male la regia mi propone subito un'immagine molto cara da entrambi devo dire, no? credo che è l'aeroporto dello Stretto ecco qui negli ultimi giorni si è parlato molto cioè questo aeroporto in fallimento in progetto di chiudere di chiudere battenti è un grosso guaio per i cittadini di Reggio Calabria allora, Presidente lei ha stanziato anche dei soldi ultimamente per mantenere questo aeroporto 696 mila euro che ne pensate di questo aeroporto? chiuderà? non chiuderà? bastano questi soldi? intanto dico questi soldi non bastano di certo ma al di là dei soldi io mi sarei aspettato attorno all'aeroporto anche nella malaugurata ipotesi che l'aeroporto debba chiudere perché più volte abbiamo sostenevano altri io l'ho sempre sostenuto che l'aeroporto può chiudere dal punto di vista tecnico procedurale si sosteneva che l'aeroporto non possono chiudere perché nel momento in cui non c'è più la società che gestisce l'aeroporto questa sarà presa in carico dalla SOGAS così non è dall'ENAC così non è perché Crotone è l'emblema di questa procedura così come Rimini cioè i problemi che noi dobbiamo affrontare sono due da una parte la tutela dell'infrastruttura perché Reggio non si può permettere anche come città metropolitane ritorniamo al nostro discorso di prima dico c'è bisogno di avere una fascia blu piuttosto che tricolore per difendere un'infrastruttura come l'aeroporto io penso di no si sono ribellati i cittadini perché le istituzioni non devono sentire sulle proprie spalle la responsabilità di salvaguardare un'infrastruttura poi apriremo anche il fronte sul pregresso perché gran parte dice deve arrivare al fallimento perché dobbiamo dimostrare il fallimento di una politica verso l'aeroporto che è stato un fallimento non sto parlando di Lino Costantino perché ci confrontiamo anche su posizioni diverse e questo è la forza della democrazia che forse ci toglieranno da qua a breve però ci stiamo dialoghiamo anche su posizioni diverse dico ma il sindaco della città capoluogo che ha nella sua giunta un assessore aggiunto che si chiama Del Rio vi ricordate quando Del Rio era l'assessore aggiunto della giunta Falcomata forse nel rimpasto ha tolto anche la sua delega dico questo assessore aggiunto ma si può interessare dei problemi dell'aeroporto il sindaco della città capoluogo può avere sulle spalle la responsabilità non solo economica che nasce dai soci ma anche istituzionale di dire l'aeroporto della mia città non può essere messo in discussione noi abbiamo dato il dovere nostro era farlo e lo abbiamo fatto l'altro aspetto sul quale dobbiamo concentrarci e qua non ci sono differenze di sorte salvaguardare il livello occupazionale perché salvaguardare il livello occupazionale significa non buttare all'aria esperienze decennali che all'interno della società hanno prodotto dei risultati Nino sull'aeroporto secondo te un po' la politica targata Raffa ha fallito? io non contesto al presidente Raffa di aver messo o non messo le risorse dentro la SOGAS dentro l'aeroporto di Reggio Carabria anzi devo dire che il presidente Raffa gli ha sempre ripienato i debiti e ha messo 696 mila euro di recente un mese fa o 20 giorni fa con una delibera diciamo in qualche modo che vella Italia diciamo pericolosa per come l'ha costruita però ci sono 696 mila euro io quello che è contesto dal presidente Raffa è un'altra cosa che assieme a un passato ancora più lontano del suo non solo lui sono stati messi 23 milioni 23 milioni di euro dentro il sistema aeroportuale di Reggio Carabria dell'aeroporto dello Stretto per la società di gestione dell'aeroporto dello Stretto senza aver mai vigilato come si spendevano queste risorse che ha prodotto quella situazione che ha prodotto consigli di amministrazione presidente di quella società che hanno portato allo sfascio diciamo l'aeroporto di Reggio Carabria è questa la contestazione che faccio alla politica e in questo caso al presidente della provincia di Reggio Carabria che per 5 anni ha avuto questa responsabilità ma non è che sto dicendo che il presidente Raff diciamo non doveva doveva gli ha messi i soldi questo sì ma il punto di fondo è proprio quello perché si è arrivati a questo perché con quelle risorse emesse che non sono soltanto quelle della provincia ma sono anche quelle degli altri soci e c'è la regione la provincia di Messina poi li ha messi più e via dicendo ma erano soci minori perché quelle risorse sono state sono servite soltanto a finanziare un carrozzone e a non determinare diciamo la prospettiva del rinancio del rapporto di Reggio Carabria e la salvaguardia dei livelli occupazionali che oggi in questo momento sono le rome un quarto di sera è in corso un'assemblea di lavoratori perché nel pomeriggio alle 5 alle 4 si è fatta una riunione con i curatori fallimentari che hanno aperto la procedura fallimentare con la 223 e ci hanno detto in tutta tranquillità ma guardate che la legge la possiamo anche non rispettare noi perché noi siamo curatori fallimentari è una cosa straordinaria no gli abbiamo detto cari curatori la legge la deve rispettare lei la deve rispettare il giudice fallimentare la deve rispettare tutti i cittadini di questo paese perché altrimenti come dire viviamo in uno stato diciamo non di legalità e questo per quanto ci riguarda è un punto diciamo che noi sottolineiamo sì mi richiamo anche alle parole di Nino su questo tema non ci sono divisioni di sorta siamo compatti a tutelare il livello occupazionale che c'è attualmente nell'aeroporto naturalmente la domanda alla quale Nino legittimamente mi pone dice cosa hai fatto in questi 5 anni per non vigilare rispetto ai soldi che tu versavi allora intanto ci siamo trovati un 67% di quote che il buon presidente Morabi dal quale va ancora il mio ringraziamento per l'attività che lui ha svolto in quei 5 anni ha dovuto ancora una volta svolgere un ruolo di sussidiarietà rispetto ad altri soci che non pagano quindi la provincia non è che è arrivata al 67% perché voleva essere padrona della SOGAS ci siamo ritrovati perché il presidente Morabi in un momento di difficoltà ha detto ce li compriamo noi visto che altri e mi ricordo che era allora la regione Calabria perché la regione Calabria con la scusa degli aiuti di Stato e parlo di amministrazione ancora prima di questa del presidente Oliverio dice no non possiamo noi dare i soldi alla SOGAS perché rientro nell'aiuto di Stato mi ricordo allora che c'era Oliverio poi c'è stato scopelliti quindi è stato un susseguio di negligenze verso l'aeroporto di Reggio che spesso veniva individuato come ipotetici aiuti di Stato questo non c'è stato perché dopo purtroppo dopo nove anni la comunità europea ha detto che non sono aiuti di Stato perché interessa un servizio pubblico di interesse generale naturalmente come sono stati spesi questi soldi allora andiamo a Monte e cerchiamo di fare una valutazione perché è chiaro che io mi assumo le mie responsabilità ci mancherebbe altro noi abbiamo avuto l'onere di individuare un management che forse non è riuscito per motivi più personali forse a dialogare come avrebbe dovuto e come ho sempre auspicato con le organizzazioni sindacali perché l'intesa che noi oggi dobbiamo rinsaldare a tutela dei posti di lavoro doveva essere l'intesa che già a Monte doveva essere istituita per trovare una via di uscita rispetto a una situazione drammatica strutturalmente drammatica perché la società di gestione perde due milioni l'anno sempre con questa attività volativa e ci siamo più volte interrogati Nino e tu sei testimone come uscire da questa situazione o riduci i costi o aumenti i ricavi allora siccome ci sono tante altre cose da parlare perché non è una trasmissione solo sull'aeroporto anche perché non abbiamo preparato il Rwm eccetera vi dico solo una domanda a entrambi ma questo aeroporto si salverà sì o no siamo sinceri con i telespettatori che ci stanno guardando hanno possibilità di partire con un volo decente da Reggio Calabria arrivare a Roma arrivare a Milano arrivare a Bergamo c'è sì o no ma guarda a un altro punto sul quale ci siamo ritrovati con Nino più volte è la società unica di gestione allora per uscire fuori da questa impasse una soluzione può essere con il bando che è in corso la società unica di gestione con tutte le preoccupazioni però che questa riserva nel suo interno perché la società unica di gestione se dovesse essere così come è immaginabile visto il bando e come è stato confezionato la Sagal di Lamezia ci garantisce la Sagal di Lamezia che questo che questo aeroporto di Reggio non diventi un aeroporto satellite di Lamezia e quindi con ulteriore perdita e soprattutto perdita di quello che è un diritto dei cittadini di quest'area di poter volare questo è il mio il mio dubbio poi c'è una gara aperta ci auguriamo che chi si farà carico e che soprattutto chi si farà carico di gestire l'aeroporto si impegni a riassorbire il personale è quello che abbiamo sempre detto allora Nino vuoi dire qualcosa in chiusura sull'aeroporto perché devo andare avanti con altri argomenti brevissimamente la società unica di gestione l'abbiamo proposta tanti anni fa il punto è che guardare oggi a sistemi aeroportuali in questo paese è importante anche per l'aeroporto di Reggio Calabria si guardi la Campania e la Puglia due grandi regioni del Mezzogiorno stanno procedendo speritamente alla costruzione di un'unica società di gestione quindi la salvezza dell'aeroporto di Reggio Calabria che oggi ha 490.000 80.000 passeggeri l'anno non può non avvenire attraverso una società di gestione unica insieme alle altre calabrese perché altrimenti ce lo chiudono ce lo chiudono perché non possiamo reggere sul mercato uno due e finisco io sono sindacalista oggi la cosa che mi sento più di mettere di sottolineare è il grave rischio che per responsabilità del passato si perdano posti di lavoro nell'aeroporto di Reggio Calabria ecco rinsaldare un patto fra sindacato e politica in virtù dell'aeroporto di Reggio Calabria io lo accetto Presidente lo accetto e però da oggi stesso da stasera stesso alle 11 di stasera quando finiamo questa trasmissione diciamo insieme che non si deve perdere nessun posto di lavoro e si dica i curatori fallimentari che devono fermarsi in questa procedura sbagliata che hanno avviato naturalmente prima del 2 febbraio quindi questa sera fatelo insieme no no ma è corretto l'appello ma beh l'ha detto pure prima allora Nino qui tu magari non sei fatti voglio chiederlo prima di andare in pubblicità al Presidente per questo abbiamo messo adesso questa immagine manda schermo intero grazie il palazzetto dello sport di Taurianova ecco un'illusione secondo i cittadini di Taurianova lo dico perché sono torrenovese quindi è stato promesso anche recentemente l'ultima azione ma fanno sapere i nuovi sindaci eccetera che insomma è tutta una presa in giro questa vicenda del palazzetto dello sport che la responsabilità è di Raffa sono stati investiti diversi centinaia di migliaia di euro ma non è attivo è fermo bisognerà rifarlo qual è cosa vuole dire in merito al palazzetto perché si fa non si fa e con una procedura assolutamente sbagliata perché le valutazioni che abbiamo fatto su questo palazzetto il tetto in particolare è un tetto che è stato costruito fuori qualsiasi norma sia antisismica che di incolumità pubblica perché ci sono dei grossi problemi infrastrutturali questi grossi problemi infrastrutturali per il nostro impegno che non era un impegno di promesse di che cosa poi non lo so perché poi per quanto mi riguarda non ci sono state competizioni che mi hanno visto protagonista noi abbiamo assunto un impegno di completare un'infrastruttura fondamentale per la Piana come abbiamo fatto per Città Nova dove il palazzetto è efficiente e funzionale ci vogliono 780 mila euro che abbiamo chiesto il mutuo alla Cassa Depositi e Presti mi auguro che già per la prossima settimana noi riusciamo a individuare diciamo questo finanziamento che ci deve venire per mutui perché anche qua sarebbe per me facile giocare su sporco anche dicendo che purtroppo ci hanno tagliato 32 milioni di euro e che difficilmente riusciamo a garantire anche l'ordinaria amministrazione delle strade e degli impianti scolastici che sono le nostre competenze quindi questo qua vabbè fra qualche settimana speriamo arrivino questi soldi e verranno investiti sul palazzetto ok devo andare in pubblicità perché ho sforato però voglio dire una cosa lei ha detto che ci hanno tagliato dei fondi per l'ordinaria amministrazione anche per le strade ok 32 milioni di euro cioè noi paradossalmente abbiamo noi come ente finanziato lo Stato ritornando 4 milioni come contributo alla finanza locale ok ma questi 32 milioni di euro verranno tolti anche alla città metropolitana ma naturalmente è stata svuotata anche alla città metropolitana perché i soldi comunque la questione del bilancio resta ma certo quando io me ne andrò a casa non mi porterò i soldi della provincia ci mancava allora andiamo in pubblicità e torniamo fra pochissimo ed eccoci ancora insieme a Rino Ceronte insieme al presidente l'ultimo presidente Raffa e a Nino Costantino della CGL sorrido perché chi si fosse sintonizzatore in questo momento abbiamo mandato il contributo con l'ultimo dei Moicani poi diceva il presidente che bisogna paragonarlo al Re Leone poi ci lo direi alla fine allora vedete qui nel mio monitor questa buca che può rappresentare tante cose allora intanto partiamo sulla questione quella è la buca in cui è caduto Grillo a Roma mentre passeggiava no non è quella questa è dove cadono centinaia di automobilisti della provincia di Reggio Calabria e spaccano le ruote ma al di là di questo parlavamo di bilancio 32 milioni di euro sono stati cacciati alla provincia la provincia ne ha reostituiti 4 milioni mi pare dicevi ce l'ha chiesti lo Stato ce l'ha chiesti lo Stato allora questo come sarà il bilancio della provincia di Reggio Calabria era lasciato in eredità la città metropolitana ci sarà qualche buco o no? no intanto noi siamo l'unica provincia barra città metropolitana insieme a Bologna che ha chiuso i bilanci senza sforare il patto di stabilità questo è un onore che penso di aver conseguito con tutta una serie di iniziative economiche abbiamo tagliato i fitti su tanti edifici scolastici vi ricordate il proprio editorato che era sul Corso Caribaldi con una spesa enorme l'abbiamo spostato negli uffici dell'amministrazione in questi ultimi giorni stiamo tagliando ancora dei fitti che sono diciamo il vero peso che pesa sulle amministrazioni naturalmente sì hanno tagliato i soldi per la viabilità ma l'hanno tagliato in un atto ancora più grave che sono i 14 milioni i 14 milioni di euro che dovevano essere trasferiti alla provincia di Reggio Calabria dai fondi ANAS vi ricordate i fondi ANAS no? dovevano trasferire dei fondi alla provincia e questi fondi ANAS se li sono divise le quattro province calabrese al Reggio non è arrivato un euro su questo abbiamo fatto il ricorso ancora una volta al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero degli Interni perché poi è quello responsabile per la contabilità degli enti locali e quindi speriamo che questi soldi li recuperiamo però vi assicuro che sarà difficile garantire anche la manutenzione delle strade noi ora stiamo andando avanti anche questa emergenza l'abbiamo affrontata con la società che avevamo per sì l'emergenza maltempo con la società che avevamo contrattualizzata in questi giorni il 17 scadrà questo contratto di servizi e quindi ci troviamo veramente in grosse difficoltà certo che sarà comunque dura Nino per la città metropolitana amministrare secondo me l'intera provincia perché sono una serie di sindaci o consiglieri comunali che si ritroveranno ad amministrare un territorio immenso sapete quanti chilometri sono di strade provinciali? 1800 cioè andare dal Reggio a Milano e andare e ritorno ma non solo ragazzi il problema è che ci sono i cittadini lasciamo stare i cittadini di Gioia Tauro che già non si sentivano rappresentati all'inizio ricordate perché qui nessuno della zona delle città più importanti Gioia Tauro aveva due consiglieri Gioia Tauro aveva due consiglieri provinciali ma non ha preso un consigliere metropolitano c'è il sindaco di Oppido e il sindaco di Sciro che sono cioè delle comunità vabbè il sindaco di Oppido Giannette è stato assessore provinciale quindi in materia se ne sa il fatto suo però ci sono città che non saranno rappresentate per niente cioè mi vengono in mente i piccoli paesini della Locrita ad esempio Tauro e Nova avranno risolti i suoi problemi perché c'è il sindaco ma io ne dubbi da questo punto di vista è vero c'è un problema che rappresenta diciamo nell'immaginario collettivo nella scelta poi concrete che si sono effettuate una visibilità minore per le due aree non regine della provincia la ionica e la tirrenica io però vorrei sottolineare un altro aspetto che la città metropolitana deriva viene fuori dopo il commissariamento che ha subito la città di Reggio Calabria e per quelle motivazioni c'è stato lo slittamento c'è stato lo slittamento di un anno per il commissariamento poi oltre al commissariamento ci sono state operazioni dopo che hanno svelato una serie di ma il punto vero del commissariamento non detto è che c'era un buco di bilancio grande quanto una casa nella città di Reggio Calabria e poi si è visto ovviamente dopo e non voglio giustificare nessuno e niente chi si prende la responsabilità di amministrare deve farlo anche in quelle condizioni si parte da qui però si parte da una situazione finanziaria molto debole di questa provincia di questa provincia della città di Reggio Calabria del comune di Reggio Calabria e nel complesso poi del sistema che c'è in questa provincia e quindi bisogna prendere atto di questo poi se tu mi dici che c'è un problema di scarsa rappresentanza e visibilità delle due aree più importanti di questa provincia direi così è vero è così ma questo è dovuto essenzialmente al sistema elettorale di secondo livello che hanno costruito con la Reggio Calabria che è sbagliato ma infatti sono contrario a questa legge perché è una porcheria nel senso se dobbiamo abolire aboliamo le regioni che sono meno diciamo più giovani rispetto alle province ma tutti quanti parlano del sistema del sistema francese istituzione francese come elemento di grande è vero però non l'abbiamo mai preso in considerazione lì ci sono i dipartimenti i dipartimenti qui da noi ci sono le regioni che sono delle grandi aggregazioni diciamo che dopo il 70 è quello che voglio dire io qual è la questione cioè se uno vuole parlare con l'assessore provinciale andava a Reggio massimo un'ora di macchina dal punto più distante della provincia e parlava con l'assessore che magari ha votato che ha conosciuto qui se noi dobbiamo parlare con il consigliere metropolitano ma chi li conosce chi li ha votati ma non solo ma dico se dobbiamo andare in regione ma per trovare un numero della regione Calabria sul sito ma che rispondono in regione è difficilissimo come fa un cittadino a pretendere a chiedere un diritto ragazzi per i disabili è dovuto avvenire report affinché fosse garantito un servizio ai disabili ma qua siamo nel terzo mondo in Calabria quello che mi preoccupa è che già siamo messi male quando c'era la provincia con tutto il rispetto Presidente Raffa ma figuriamoci con la città metropolitana ma Falcomatà che deve pensare alla città di Reggio che in una grande crisi e lo dicono i giornali ogni giorno lo dice la politica lo dicono i cittadini deve pensare anche alla provincia di Reggio Calabria e speriamo che non vada a fare il senatore no vabbè ma questo penso e non diciamo a mandor sulla legge costruzione ma penso che non succederà questa cosa non lo sappiamo non lo dico così penso che non succederà il punto però è sempre quello noi stiamo criticando una legge degli aspetti negativi a mio avviso su questo concordiamo il sistema di elezione indiretto che peraltro viene riproposto anche adesso il sistema di elezione indiretto è sbagliato perché allontana i cittadini dall'istituzione cioè te li fa sentire distanti e quel consigliere in questo caso o quel senatore nell'altro caso determinerà una possibilità per il soggetto di avere questa dimensione dell'allontanamento cioè di essere garante di se stesso senza rispondere a nessuno questo è il limite diciamo di questi assetti che sono stati creati così quindi il sindaco metropolitano a mio avviso se fosse stato eletto da tutti i cittadini della provincia della regione avrebbe avuto più forza certo ma è chiaro perché forse no ma in effetti scusami la legge non l'ha neanche letta anche quest'ultima dell'elezione del senato perché la elezione del senato non parla del sindaco della città metropolitana parla dei 21 sindaci dei comuni capoluogo quindi che fa il comando pensa di fare il senatore può darsi che gli modifino la legge ad personam ma sono 21 sindaci che rappresentano le 21 regioni e quindi è il sindaco del comune capoluogo tutto può essere in politica però ecco ancora una volta mettiamo in evidente la stortuna di una legge che è veramente incomprensibile ma noi figuriamoci al cittadino che purtroppo ormai è veramente lontano ma questo è il trend è il tentativo di legistimare il voto non mi è chiara spieghiamolo magari anche ai telespettatori che ci seguono c'è un consigliere un sindaco che diventa consigliere metropolitano dopo un anno se cessa di fare il sindaco viene anche automaticamente cacciato dal consiglio metropolitano ma così è per il senato cioè come fare è la stessa cosa per il senato non parliamo non possiamo allora ma dico io cioè come fa tanto se è la stessa cosa come fa un sindaco magari lavora sta portando a termine un progetto importantissimo e poi decade perché lo sfiduciano e stiamo vedendo la crisi che c'è nei comuni della piena di Giochiatauro Giochiatauro Peda verrà molto probabilmente già è stata fatta una mozione di sfiducia nei suoi confronti il sindaco di Torianova che sembra una trazoppa 9 consiglieri di minoranza 8 di maggioranza nel giro di qualche mese dico come fa questo consigliere metropolitano dovrà andarsene ma perché ancora non hanno fatto nulla quindi ancora in tempo però dico dopo vada in questi ultimi tre anni si è messo in piedi un meccanismo diciamo da questo punto di vista sbagliato per la modernità di questo paese bisognava modernare le istituzioni democratiche invece li stiamo peggiorando io sono perché vengano meno posti diciamo dove si annida spesso la politica e dove la politica in qualche modo fa anche clientela però e quindi bisogna ridurre i posti della politica sin sedia bisogna però velocizzare la possibilità di decidere delle istituzioni in questo modo non si è fatto questo in questo modo si è dato potere a pochi e si è dato e si dà potere diciamo perfetto è chiaro manca la democrazia è uno degli aspetti che manca nelle riforme che si stanno facendo allora velocemente numero 5 scheda numero 5 grazie per il presidente prima di andare in pubblicità gli vogliamo chiedere ce l'abbiamo la 5 ok perfetto Pede Montana che ne sarà qualche tratto ultimato altri no velocemente presidente il lotto terra siamo usciti anche poco fa da un contenzioso giudiziario perché purtroppo le varie fasi del codice degli appalti che ora stanno cercando un po' di snellire si fanno non solo dalla gara e quindi l'affidamento nel mezzo c'è i procedimenti giudiziari in cui la seconda ha fatto ricorso rispetto alla prima e quindi il tarra aveva dato ragione all'una ora riparterà il lotto terra che è un lotto così importante l'altra c'erano le cooperative che sono andate in fallimento quindi sono state rilevati sono problemi amministrativi legati a queste dinamiche sugli appalti che sono veramente molto faraginosi sul quale non si è mai più di tanto concentrato il governo per dare una risposta io non so se il nuovo codice degli appalti snellisce queste procedure perché neanche l'ho letto sinceramente e non ho la presunzione di interpretarlo di certo questo è uno dei punti più dolenti del nostro territorio perché sono opere finanziate da circa 15 anni queste qua noi abbiamo dovuto rimodulare quindi adeguamento prezzi tutto un sistema che ha poi penalizzato anche la qualità delle opere perché poi con i ribassi che sono stati fatti ci ritroviamo comunque il lotto ter sta per essere firmato il contratto con questa nuova società e il lotto che era interessato dalle cooperative quindi anche questo che era un'opera importante sta ripartendo perché queste cooperative sono state rilevate da un'altra società quindi si sbloccheranno però i tempi sono naturalmente tempi biblici sul quale nessuno di noi può prefigurare una fine almeno al momento anche questa la città metropolitana naturalmente che è importantissima per la viabilità soprattutto per il collegamento tra questi comuni dell'entroterra che è molto penso che quella che città delia nuova gioia tauro quel tratto riusciremo a completarlo ancora prima che ci sia il subentro e quindi anche per questo sono ancora qua per avere le soddisfazioni delle cose che abbiamo fatto perché stiamo per appaltare due scuole importanti sull'Ocri che sono una procedura veramente lunghissima con il genio civile che deve dare il parere ci sono molte cose che dice giustamente me li porto a termine fino al 2 febbraio ho tempo quindi quello che riesco a fare è la soddisfazione di completare un lavoro che abbiamo avviato solo per questo peraltro siamo a titolo gratuito è il momento più bello della mia esperienza no assolutamente è il momento più bello della mia esperienza politica ecco il volontariato puro ah vedi vedi non ci ha pensato prima però no poteva farlo allora certo eppure è un po' difficile e dobbiamo conciliare con il lavoro sono tante le cose perché lei è un medico sì io gli sto dando un po' del tuo presidente tu sei un medico se sei al mio libro paga ci possiamo dare del tutto ormai hanno svelato un arcano che non c'è e che dimostreremo che non c'è no infatti queste qua sono veramente delle calugne vabbè ma lasciamoli stare allora quindi questo è importante ci fermiamo qualche istante per la pubblicità perché abbiamo ancora tantissime cose però sarà difficile portarle tutte insomma a discuterle tutte oggi a fra poco ed eccoci ancora insieme al rinoceronte cari amici dell'espettatore l'ultimo presidente siamo con Giuseppe Raffa presidente della provincia di Reggio Calabria nonché l'ultimo è l'ultima fascia blu che sarà insomma te la porterai a casa la fascia blu presidente se non mi fanno l'incriminazione per appropriazione in debita sì la pagherò ecco lascerò qualcosa alla provincia ma me la porterai come ricordo dai è giusto Nino che dici ma una fascia non si rega a nessuno diciamo allora parliamo di una cosa seria adesso molto importante porto di Gigatauro più di 400 persone rischiano il licenziamento sono stati licenziati com'è la situazione c'è questa agenzia promossa dal governo che però è stata bocciata diciamolo quindi com'è la situazione velocemente Nino così poi diamo la parola al presidente l'agenzia è il frutto è stato il frutto di una intensa diciamo discussione avuta per mesi con il governo nazionale presidenza del consiglio e vari ministeri che alla fine il 27 luglio ha prodotto un accordo di programma quadro fra queste istituzioni e organizzazioni sindacali nazionali per salvaguardare l'occupazione di alcuni grandi porti Gioia e Taranto per circa 900 posti di lavoro l'agenzia a Gioia Tavola voleva dire che gli esuberi dell'azienda MCT sarebbero passati là a un certo punto e quindi c'era per tre anni finanziato e quindi c'era un minimo di paracadute su questa vicenda pericolosa e pesante per i lavoratori di quest'area che può essere anche rifinanziata poi una cosa diciamo in itinere che succede però succede che qualche giorno fa la commissione del bilancio boccia diciamo l'emendamento di istituzione dell'agenzia insieme ad altre cose ovviamente noi siamo stati diciamo insieme a tanti preoccupati diciamo di questa situazione di questa di questa situazione diciamo imprevista anche perché come dire il governo firma un accordo di programma quadro poi non è in grado di mantenere nel Parlamento diciamo nella commissione del bilancio quell'emendamento che si dice che bisognava mettere beh lì siamo un po' ci siamo un po' messi in allarme allora adesso abbiamo avuto garanzie da parte di esponenti del governo e il presidente dell'aggiunta del generale Oliverio l'ha dichiarato pubblicamente nel resto che il governo ripresenterà che verrà presentato nel maxi ammendamento ma prima o dopo il 4 dicembre? guardi credo prima perché verrebbe approvata prima però questo non prima quindi in questa settimana dovrebbe essere in questa settimana mi sa quando è il 20 oggi infatti alla Camera e quindi dovrebbe poi ma è stata approvata ma il punto non è questo il punto è che noi dobbiamo avere garanzie per queste persone perché altrimenti dal primo gennaio cambia anche il sistema di ammortizzazione sociale fino al 31 dicembre no non abbiamo un percorso un tipo di dopo il primo gennaio abbiamo diciamo quasi nulla per i lavoratori quindi non dobbiamo chiudere questa partita prima anche perché direi basta con l'assistenzialismo facciamo del lavorare e si devono guadagnare il pane nei tre anni che passano devono completare il ghetto devono completare il bacino di caronaggio e le altre attività che ci hanno detto per tentare di ricollocare una parte consistente di queste persone e questo è il percorso che ci hanno letto in questo accordo di programma quadro questo è l'accordo che noi pretendiamo a prescindere da qualsiasi governo c'è in campo nazionale cosa avrebbe dovuto fare la provincia che magari non ha fatto che ha fatto e qual è il ruolo della città metropolitana secondo te sul porto anche se qui è un impegno più che altro del governo che delle province o delle città metropolitana io al presidente Raff tante volte ho detto non sono d'accordo con lui su alcune questioni ma su questa questione del porto di Gioia d'Auro beh francamente è una dimensione troppo e più grande è una dimensione talmente grande però io su questo volevo aggiungere proprio poi abbiamo delle cose diverse su cui la pensiamo in modo diverso al limite ci possiamo anche su questo ma al limite possiamo no dico ma la mia preoccupazione è che i sindacati hanno firmato con la proprietà un esubero di 400 dipendenti fidandosi forse eccessivamente del governo non l'abbiamo firmato abbiamo firmato avete sottoscritto un accordo che dice in considerazione del fatto che il governo ha proposto l'agenzia l'esubbio di grado dall'azienda andrà dentro questa azienda questo abbiamo fatto mi domando io ma ai nostri parlamentari è facile sparare sulla Croce Rossa perché sul porto di Gioia d'Auro le incompiute sono state tantissime vi ricordate la fabbrica di auto che doveva rappresentare anche là un ammortizzatore sociale scomparsa si è sciolta come neva il sole vi ricordate la ZES che ora l'hanno un po' ripresa per sollecitare il governo a mandarla alla Commissione Europea ma non potevano farlo due anni fa tre anni fa cinque anni fa da quant'è che stiamo lottando cioè sul porto di Gioia d'Auro ci sono molti incompiute che preoccupano che preoccupano tutti perché qua sono 400 posti di lavoro io mi auguro che al Senato passi e che non rappresenti veramente una diciamo una clausola messa apposta perché aspettare il 4 o il 5 piuttosto che il 3 qua si tratta veramente di salvaguardare i posti di lavoro ma comunque i lavoratori siano stanchi delle solite promesse quindi non fa differenza il 4 o il 10 dicembre però è preoccupante fosse già passato alla Camera eravamo tutti tranquilli che in tre anni c'era un ammortizzatore ma perché non è passato non c'era la copertura chi dice perché anche questo è un mistero forse Lino lo sa meglio di me perché chi dice che mancava il numero legale chi dice che il Presidente dal punto di vista giuridico non era fatto incardinata bene mancava la copertura economica e sono troppi misteri veramente si nascondeva si nascondeva dietro la norma in quel modo scritta una sorta di aiuto di Stato che avrebbe poi non avrebbe consentito successivamente però il punto il punto non è perché purtroppo è successo c'è anche Taranto è un bel cruzzoletto di soldi che servono e Taranto peraltro sì ci sono 900 persone complessivamente di 400 a Gioia e 500 a Taranto e tieni presente che nella finanziaria di quest'anno verranno stabilite sui 45 complessivi 20 miliardi per dare la possibilità a tutto il 900 di poter avere garanzia di salario per il lavoro che svolgeranno con l'agenzia quindi è un punto diciamo delicato lì il punto purtroppo è successo non doveva succedere per gli impegni che il governo ha assunto con noi con le organizzazioni sindacali con le istituzioni locali e via dicendo e quindi non doveva succedere ma è successo ecco questo diciamo al governo adesso basta su Gioia basta fare errori adesso ogni errore su Gioia è pericoloso è chiarissimo il vostro appello voglio andare all'altra immagine che abbiamo dall'alto guardate che meraviglia lo stretto di Messina lo stretto di Messina lo stretto di Reggio Calabria che mi piace di più però insomma ormai l'area dello stretto se ne è parlato presidente in questi anni di fare quest'area dello stretto questa collaborazione tra le due città insomma tra le province com'è la situazione? cosa lascerete in eredità alla città metropolitana in termini di rapporti con la vicina Messina? in effetti guardi che la provincia di Reggio Calabria con Messina ha un'affinità diciamo culturale molto più forte rispetto alle altre realtà regionali io ricordo che con Messina c'era una simbiosa una sinergia positiva su tanti aspetti anche nei modi degli anni 70 allora c'è stata una condivisione un po' allargata ci siamo cullati sul fatto che la città metropolitana doveva essere la città metropolitana dello stretto per poi scoprire che non era una procedura praticabile nell'immediato perché sono due statuti due regioni a statuti diverso ci siamo cullati su una disponibilità a monte sul quale anche il sindaco di Messina aveva detto viviamo di quest'area dello stretto immaginandola ancora ritornandoci alle lidea all'odissea cioè queste cose molto fumose che poi vanno perdere di vista i contenuti i contenuti sono i trasporti c'è un'integrazione reale fra le due aree e su questo ci dovremmo interrogare abbiamo fatto un tavolo dove con il direttore generale dei trasporti delle infrastrutture PUA che ringrazio perché è venuto a Reggio a sollecitare le istituzioni a dare una proposta concreta non ci siamo ritrovati perché poi si trattava di spostare l'imbarco da Villa a Reggio Calabria e abbiamo trovato una soluzione mediana che era Bolano di Catona e anche sull'anno c'è stata una presa di coscienza forte da parte dei territori l'area dell'ossetto secondo me rimane ancora ai tempi dell'Irivo di Sera guarda io grossomodo all'età diciamo del presidente dovremmo ricordare tutti quanti quindi che gli ultimi 30 anni hanno caratterizzato una cosa tutti i presidenti della provincia tutti sono andati a Messina si era Pulpirenti o quelli di Messina o quelli di Messina sono venuti diciamo a Reggio si è fatto sempre un protocollo di intesa fra i presidenti delle due province che diceva sempre sostanzialmente le stesse cose integrazione 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 sistema dei trasporti il sistema universitario la sanità la cultura i teatri esatto tutto questo negli ultimi 30 anni sono scritto in documento ufficiale delle due province di qualsiasi diciamo colore politico che era in quella fase amministrata il punto è che siamo rimasti a 30-40 anni fa rispetto alla gestione allora io dico l'area dello stretto siccome una risorsa per noi e per loro per i messinesi e per i regini per gli abitanti della provincia di Messina e di quella di Reggio noi dobbiamo utilizzare nel miglior modo possibile questa risorsa e allora si sono fatte le leggi importanti che riguardano per esempio nel nord di questo paese diverse regioni che stanno sul lago sui grandi laghi nazionali e dicono che in questi laghi dove insistono più territori di appartenenti da altre regioni lì si può fare una possibilità di trasporto pubblico locale incentivata da tutte e due le regioni e dallo Stato in modo tale che gli abitanti di quelle aree possono usufruire di quella modernità di trasporto della continuità territoriale allora perché invece di perdere tempo su progetti faraonici come per esempio ancora una volta lo dice anche il governo di Renzi e del Rio sul ponte dello Stretto non si mette in campo un'ipotesi di quel tipo per l'area dello Stretto per lo Stretto di Messina cioè per il trasporto pubblico locale di quest'area perché non incentivare quel tipo di trasporto quanto aiuto daremmo agli studenti di Reggio e di Messina ai lavoratori di Messina e di Reggio ai malati in Reggio di Messina diciamo che hanno un sistema sanitario che possono avere un sistema facilmente raggiungibile però non siamo neanche collegati tutto questo che facilmente si può fare in maniera facile molto più facile di un ponte sullo Stretto che è inutile e sbagliato beh tutto questo negli ultimi da sempre non si è fatto ecco qui c'è una responsabilità delle classi dirigenti quando parlo di classi dirigenti non mi riferisco soltanto al fatto che c'è il politico classi dirigenti siamo tutti siamo tutti coloro che non prendiamo potere contrattuale che non rendiamo fruibile la possibilità di modernità di un'area del paese che ne ha tanto bisogno allora siamo siamo in chiusura volevo mandare ecco questa qui mandamela in onda gentilmente grazie questa qui ha fatto discutere tantissimo addirittura è finita questa lapide in prima pagina sul Corriere della Sera no? cioè a perenne memoria Presidente Raffa lei ha pensato bene di fare questa stele no non l'ho fatta io allora spieghiamo questa è una decisione del consiglio metropolitano tant'è vero che ci sono tutti del consiglio provinciale tant'è vero che ci sono tutti i consiglieri vorrei precisare che intanto l'abbiamo rimossa già da un mese e mezzo quindi con una delibera di giunta l'abbiamo discussa perché ci sono degli errori enormi e poi riteniamo che non debba essere io almeno ritengo che non debbano essere ricordati i nomi deve essere ricordata l'istituzione tant'è vero che ora abbiamo messo all'interno del palazzo due mosaici importanti uno che è il simbolo della provincia che vedete qua rappresentato l'altro è il nome Corrado Alvaro che è l'intitulazione che abbiamo dato a quel palazzo quindi due simboli neutri perché poi le persone passano ma le istituzioni rimangono questa è un'istituzione di 200 anni di storia sul quale dovremmo scrivere anche che è stata come una croce cancellata dal governo Renzi Nino dici hanno fatto male a farla hanno fatto bene a toglierla sì in effetti insomma ci sono anche degli errori ma chi l'ha scritto il testo di questa ma è stata una deliberazione del Consiglio Provinciale ma lei c'era pure in questo Consiglio no quando l'hanno deliberata no perché io questa stella l'ho saputo paradossalmente dopo quando è uscito sul Corriere della Sera le sembra la strada addirittura addirittura e ve lo assicuro è così ma non l'ha vista no perché io non entro mai da quella porta a vederla effettivamente abbiamo ritenuto di doverla rimuovere perché diciamo dobbiamo noi ricordare l'istituzione non dobbiamo ricordare le persone altrimenti rischiamo veramente di perdere di vista gli obiettivi con quale risorse sono state fatte con quelle dell'Aggiunta o con quelle del Consiglio no no è stato fatto come volontariato da un'impresa questo mi è stato detto non ci sono impegni economici assolutamente neanche per toglierle perché la stessa impresa abbiamo chiesto la cortesia di rimuovere assolutamente e dove è andata a finire questa lapide è stata conservata non lo so non è che va a finire a casa sua insieme alla fascia no 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 la fascia va bene la fascia va bene ma la lapide no assolutamente non l'ho condivisa e l'abbiamo rimosta quindi siamo stati in linea ma non perché è uscito sul Corriere della Sera ma perché effettivamente non è proponibile un ricordo che rappresenta più un ricordo funerario noi siamo per le cose belle senta ma l'aula consigliare insomma della provincia che fine farà? verrà utilizzata dal Consiglio Metropolitano sì le dispiace lasciare la provincia di Tregio Carano? no no assolutamente ho concluso un mandato anzi avrei dovuto lasciarla già da qualche mese questo appendice mi dà la possibilità appunto di completare tante opere insomma è stato per noi un impegno per me almeno è stato un impegno importante perché ho conosciuto una provincia bellissima ma pensa di fare di fare ancora politica? vabbè c'è una passione ma gli strumenti non ci sono perché insomma non mi fai ritornare a quello che succederà da qua a breve ma la democrazia purtroppo verrà cancellata e quindi o ti butti dietro la porta del tuo leader di partito ti prostri a quelli che sono i bisogni e le volontà dei capi partito oppure fare politica così è quasi impossibile perché non conta più il consenso né i rapporti con la gente bene allora io ringrazio il presidente Raffa per essere stato con noi questa sera l'ultimo presidente abbiamo avuto con noi volevo dire di Re Leone perché Re Leone è un filmato bellissimo che io vedo perché c'è un bambino di 4 anni e allora Re Leone era viveva quando c'era Re Leone viveva in una giungla in una savana molto molto florida con il subentro con la morte di Re Leone il subentro del fratello Sprar che è lo zio il fratello di Re Leone sono subentrate le Iene quindi rischieremo di vedere una città metropolitana molto simile a quella seconda fase della vita di una giungla Nino secondo te? ma lo so se si riferisce a quale Iene si riferisce non vorrei che si riferisse alle Iene diciamo di Italia 1 sono andati a trovarlo non credo allora di nuovo grazie presidente abbiamo intervistato l'ultimo presidente della provincia di Reggio Calabria credo a bilancio ancora non ci siamo forse a febbraio la rinvitiamo presidente sì perché dobbiamo anche dare la risposta sul palazzetto dello sport ecco perfetto quindi la rinvitiamo a febbraio insieme a Nino Costantino anche naturalmente così sarà l'ultima intervista visto che io sono sul libro paga mi concederà l'ultima intervista al presidente della storia della provincia di Reggio Calabria dopo 200 anni di storia concludiamo con un'intervista in esclusiva la facciamo una volta che sono sul libro paga almeno le chiedo questo favore così resterà ai posteri questo tema non scherzate perché altrimenti si rischia di mettere un bavaglio all'informazione dobbiamo essere veramente seri qua non c'è il libro paga di nessuno ci siamo attaccati ci siamo visti abbiamo anche fatto cose positive e perché non nasconderle le ansie sono reali ma non penso di aver mai influenzato né io il pensiero tuo né tu il pensiero mio però questo è un tema molto 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 importante che l'informazione deve affrontare ma lo saranno bene perché l'informazione deve essere libera ma l'informazione da noi è libera lo sa benissimo Nino Costantino che è sempre venuto nonostante idee a volte differenti molto spesso simili che mi hanno preoccupato dico qual è il mio vero orientamento mi hanno andato un po' in crisi però non abbiamo mai detto ai nostri ospiti né come indirizzare la trasmissione né quello che fare non quello che fare ci mancherebbe altro noi invitiamo tutti Nino Costantino non è una prova ha sempre detto ciò che ha voluto non ha mai stato messo non farti piegare dalle minacce perché queste le lego più come delle minacce che delle valutazioni ma infatti nessuno non ci pieghiamo all'andrangheta figuriamoci ci mettiamo ai colletti bianchi e politici insomma locali noi andiamo avanti facciamo informazione con grandi difficoltà perché siamo un emittente giovane che lavora non con i finanziamenti pubblici quando presentano dei progetti ma con gli sponsor che oggi sono in crisi ed è difficile pure che investano quindi ne approfitto anche per ringraziare chi crede in questo progetto chi crede in questa giovane televisione grazie ancora per essere stati con noi grazie a voi grazie buona serata grazie a voi cari amici telespettatori ci vediamo lunedì prossimo come sempre alle 21 con il rinoceronte poi continuate a seguirci sempre su sud come ogni mattina insomma con i nostri programmi poi il pomeriggio e anche la sera buona settimana a tutti grazie a tutti